La riserva naturale del Borsacchio si trova oramai da tempo al centro di una disputa che ha acceso gli animi di residenti attivisti e politici. La polemica è scaturita in particolare dalla decisione presa dalla regione Abruzzo di ridurre l'estensione della riserva da 1100 a 24 ettari, un cambiamento che ha sollevato dubbi sulla sua effettiva protezione. Una vicenda su cui le guide del Borsacchio sono tornate a chiedere alla regione Abruzzo di approvare il piano di assetto naturalistico PAN, dopo che la stessa nel corso dell'ultima seduta di giunta regionale ha approvato due delibere riguardanti proprio la riserva del Borsacchio. Una che modifica il testo dell'articolo 25 mettendo il termine provvisorio e nei termini di mora e un'altra delibera che attiva una commissione paesaggistica le cui funzioni sono prettamente edilizie, cioè per costruire e autorizzare costruzioni. Diciamo che anche questo sarebbe un iter lunghissimo, proponiamo da sempre adottare il PAN che è già pronto ed ha strumenti per aiutare chi vuole fare imprenditoria, agricoltori o anche attività turistiche sostenibili in misura superiore al piano regolatore vigente. Quindi se davvero non ci sono interessi speculativi la soluzione è il PAN. Le associazioni ambientaliste, sostenute da una petizione di 30.000 firme, hanno evidenziato come la nuova delimitazione non rispetti le normative nazionali, ignorano le consultazioni con gli enti locali. Per questo motivo le associazioni ambientaliste hanno annunciato di essere pronte ad andare all'Aquila e Regione per protestare. Siamo pronti, volevamo già andare al prossimo consiglio di giovedì, però abbiamo scoperto che non c'è all'ordine del giorno la discussione sulla riserva Borsacchio, ma di certo ci ritroveranno su quella piazza appena torneranno a parlare di riserva. Avete mai chiesto un incontro al presidente Marsiglio? Sì, l'abbiamo chiesto e adesso lo stiamo richiedendo nella giornata di oggi, iscrivendoci fra le associazioni che hanno un particolare interesse per il territorio, un registro della Regione Abruzzo.